Un percorso di 1040 chilometri con 72 tappi attraversando 120 borghi, passando dai boschi del Pollino, della Sila, delle Serre e della Spromonte, partendo da Rocca Imperiale fino a Reggio Calabri. Numeri consistenti che di per sé rendono imponente il Cammino Basiliano, promosso dall'omonima associazione. Ogni giorno uno possa trovare da dormire e da mangiare. Si può dormire in monasteri, palazzi, castelli, B&B, ospitalità diffusa. E poi si può percorrere tranquillamente da sole perché uno scarica le tappi GPS e quindi le scarica sul cellulare o su un dispositivo GPS e quindi è facile da percorrere. Nei vari centri attraversati che sono oltre 140 c'è anche la tabellonistica. Questa tabella è fornita di un codice QR code che permette di scaricare tutto il necessario al camminatore, al pellegrino. Per il presidente del Consiglio regionale, Mimmo Tallini, il turista che ama camminare è diventato un importante target a cui rivolgersi per mettergli a disposizione la possibilità di apprezzare le bellezze della nostra regione. Un progetto dalle potenzialità enormi, visto che i cammini nel mondo stanno esplodendo e visto che i camminatori che sono alla ricerca di risorse naturali, di ambiente, di storia, di cultura, di castelli, di percorsi spirituali e noi in Calabria, grazie al progetto realizzato da Carmine Lupia e da questo gruppo di ambientalisti, abbiamo tutto quello che questi camminatori cercano. Il cammino nasce quasi per gioco 14 anni fa, avevamo ipotizzato questo percorso con degli amici calabresi e anche lombardi e poi 9 anni fa abbiamo iniziato a percorrerlo. Quindi solo l'anno scorso siamo riusciti a concludere il cammino e quindi abbiamo strutturato questo cammino con delle tappe in modo che ogni giorno uno possa trovare da dormire e da mangiare. Si può dormire in monasteri, ma anche in palazzi, castelli, B&B, ospitalità diffusa e poi si può percorrere tranquillamente da sole perché uno scarica le tappe, c'è GPS e quindi le scarica sul cellulare o su un dispositivo o GPS e quindi è facile da percorrere. Nei vari centri attraversati che sono oltre 140 c'è anche la tabellonistica, questa tabella è fornita di un codice QR code che permette di scaricare tutto il necessario al camminatore, al pellegrino. E' organizzato anche, ci sono due app che permettono di migliorare il servizio e poi c'è anche una guida sia online che cartacea e ci sono oltre 30 guide disponibili in tutto il percorso che ci hanno aiutati a revisionare e a verificare tutte le tracce. E' un percorso sicuramente può essere spirituale, ma anche è spirituale, ma anche ambientale e anche storico-culturale. Quindi è un vero e proprio percorso che ci fa avere una calabria autentica, una terra d'Oriente in Occidente, ma io dico anche una terra in alcuni casi del nord Europa, europea nel Mediterraneo perché attraversando le montagne troviamo delle caratteristiche che sono tipiche del centro nord Europa. E' un cammino da fare assolutamente perché è un vero e proprio cammino autotono ma allo stesso tempo esotico e Calabria rimane l'unica regione dove ancora si può incontrare l'Occidente e l'Oriente. Se uno fa il cammino principale senza le varianti sono 44 giorni, 44 tappe, lungo 1040 km il percorso, attraversa paesi arbresci, quindi dove si parla una lingua orientale che è questo albanese medievale, ma anche i paesi grecanici e poi si incontrano le monasterie molto belle tra cui Santa Maria delle Armi, il patire di Rossano e Santa Adriano a San Demetrio Corone, l'abbazia Florenza a San Giovanni in Fiore, San Giovanni Terrestissa a Bivongi, Pazzano, Montestella, questo monastero in parte scavato nella roccia sempre di origini basiliane, poi la Gertosa di Serra San Bruno, una delle massime espressioni del monachesimo occidentale, San Tilarione e questi sono monasteri dove si può anche dormire e poi si arriva nell'area grecanica, una delle zone più belle della Calabria, passando prima per Gerace fino ad arrivare poi a Reggio Calabria e finisce il termine, il cammino all'uomo di Reggio Calabria dopo aver percorso un chilometro di lungomare, quindi questo chilometro più bello di tale con questa vegetazione di tipo tropicale.